Bene, oggi è il 29 giugno 2020 e si procede a certificare la presenza degli consiglieri della prima commissione in prima seduta alle ore 9. Presidente Evola, Vicepresidente Mineo, Consigliere Forello, Consigliere Chinnici, Consigliere Sala, Consigliere Arini, Consigliere Ferrandelli, mi pare che nessuno dei consiglieri è presente, quindi si rinvia la seduta al secondo appello alle ore 10.